Ciao ragazzi, siamo noi del Fatto e benvenuti a questa seconda edizione del Fatto Summer Tour 2011, un'iniziativa nata dall'idea di due splendidi ragazzi, Enrico Giovine e Danilo Sancilio, in collaborazione con Buenavida Staff e la testata giornalistica nostra del Fatto. Andiamo a vedere cosa succede in questo venerdì 8 luglio. Ecco la prospettiva Fatto Tour Summer 2011, il delirio zargato Alga Marina, venerdì 8 luglio 2011, in compagnia del Fatto Tour la Simoncina e le nostre ragazze dell'animazione. Siamo con Giussi e Valentina. Ciao ragazze, oggi abbiamo un argomento molto particolare. Siete esperte di ventologia? La scienza che studia i venti? Più o meno? Anche no. Anche no, benissimo. Se io vi dico tramontana, da che parte arriva? Di là. Di là, perfetto. E allora ci siamo questo bel gruppo di ragazzi, anzi, un ragazzo in mezzo a due ragazze. Come vi chiamate? Carrellata di nomi? Stefania. Dov'alto? Ma Fabiana. Cioè la ragazza si è dimenticata di come si chiamasse, benissimo. Allora, domanda della serata. Se guardiamo la cartina, l'ovest si trova a sinistra o a destra? E al centro. Sinistra. Sinistra. Gadget per te. Ciao ragazzi, siamo qui con gli ideatori del Fatto Summer Tour. Ciao Enrico. Ciao a tutti, colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutte le persone che ci seguono e ci danno sempre la forza per andare avanti e procedere con le nostre iniziative. Saluto a tutti. E tu non sei solo, c'è anche Danilo. Ciao a tutti. Danilo da uomini e donne? Sì. Anche. Allora Danilo, cosa si prospetta per questa estate? Allora, si prospetta sicuramente un Summer Fatto Tour più divertente, con più energia e con più animazione e anche con più simoncina, diciamo. E anche con più delirio. Quindi ragazzi, seguiteci, il Fatto Summer Tour. Eccci qua amici dell'Alga Marina in quel di Molfetta, siamo con... Valentina. Valentina, Valentina. E anche con... Gianluca. Gianluca, desiderava tanto questa intervista. Allora, noi del Fatto Summer Tour 2011, oggi vi chiediamo se conoscete almeno tre nomi di venti. Grecale. Grecale? Come una delle fiere che c'è a Bari? La fiera del... Dell'Est. E non penso. A te ti hanno comprato oltre il Topolino tante cose. E poi il terzo, dai, facilissimo. Ponente. Ponente. Quello è Ponte, Ponente, Ponte P? No? Cucciolo. Tramontana? Glieli diamo i gadget pasquale, ti prego. Eccoci qua. Siamo proprio con un amante del sole e degli occhiali da sole. Qual è il tuo nome? Ciao, sono Francesca. Francesca, perché gli occhiali da sole? Perché la luce della telecamera di Pasquale mi dà fastidio a stasera. Benissimo, una domanda per te. Dimmi almeno un nome di vento che proviene dal nord. Io direi Libeccio. Benissimo, Francesca, pone di ragazze. Domanda per voi. Come si chiama quel vento che viene dal nord? Tramontana, Tramontana, Tramontana. Noi ci siamo. Allora, siamo giunti questa prima tappa della seconda edizione del Fatto Summer Tour. Ragazzi, domanda semplicissima. Come si chiama quello strumento che classifica i venti? La rosa dei venti. La rosa dei venti. Allora, ci siamo. Siamo ancora qui. Tu dove sei? Sono qui. Con me? E tu di dove sei? Di Trani, con te però. Con me. Allora, la Simoncina oggi fa un po' di domande pazze. Il detto 33 trentini? Andarono trottorellando. Benissimo, le sa tutte. Domanda seria di quest'oggi. Se conoscete almeno un nome di vento? Il vento africano. No. Il libeccio. Il libeccio. Io odiamo i gadgets. E le abbiamo beccate qui che sorseggiano un cocktail all'alga marina in quel di Molfetta, giusto? Di dove siete? Molfetta. 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 Di casa vostra, insomma. Allora, siete pronte per la domanda di oggi? No. Sarebbe? È molto difficile, ragazze. Conoscete almeno tre nomi di venti? Venti cosa? Venti denti. Di denti. Di denti. Di denti. Di denti. Tremontana. Denti con la V. Tremontana. Poi? Scirocco. Mestrale. Tremontana, Scirocco e Mestrale. Gli odiamo il gadgets. Il fatto tour. Ehi, ciao. Dai, non ti sbaventare. Siamo noi del fatto summer tour. Come ti chiami? Dario. Dario, sei pronto per la nostra domanda di oggi? Come no. Per niente. Allora, il vento che proviene da sud-est. Come si chiama? Grecale. Benissimo. Era lo sciroppo. Perfetto, Dario. Gli odiamo il gadgets? Come no. E si balla. E si salta. Se non sono matti, non li vogliamo. Ciao. Mantieni la porta? Allora, interroghiamo loro due qui nel bagno dell'Alga Marina. Ciao ragazze. Avete bevuto? No. Siete così natural? Sì, siamo noi. Perfetto. I vostri nomi, veloce? Miriam. Loredana. Lucrezia. Perfetto, siamo pronti. Allora, domanda quizzologa di oggi. Tre nomi di venti. Aliseo. Aliseo. Direttamente dal bagno dell'Alga Marina. Eolo. Ragazzi, qui sono i sette nani. Eolo, Pisolo e Cucciolo. Vabbè, dai. Allora, facciamo così. Dobbiamo fare la canzoncina. Io dico il fatto e voi... Pronte? Il fatto? Allora, ci siamo. Da qui. Prima tappa della seconda edizione 2011 del Fatto Summer Tour. La Marilena e la mia cara amica. Giulia. E la Simoncina vi salutano. E vi danno l'appuntamento alla prossima tappa. Ciao. 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 Grazie a tutti